Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Alba Parietti fa una precisa confessione piccante sul web e i followers rimangono scioccati Qualcosa si muove e ovviamente tutti capiscono a cosa si riferisce la famosa conduttrice Confessione piccante da Alba Parietti e il web si esalta, quella frase sul movimento, fa impazzire i suoi seguaci in quanto il contesto non lascia spazio all'immaginazione Alla Parietti, basta poco, una frase o una foto e i followers non capiscono più niente Per Alba è un periodo un po' burrascosso, in quanto sta passando dalle stelle alle stalle nel giro di poco È tornata più carica che mai, per la conduzione del nuovo programma Rai, Non sono una signora, il quale però non ha ricevuto una votazione sufficiente, almeno per adesso In seguito si è rilassata nel giorno del suo compleanno, ma anche in quella circostanza ha subito delle critiche Il balletto della discordia.Fortunatamente, la Parietti, nonostante i suoi 62 anni, portati benissimo tra l'altro, continua a vivere come meglio crede, fregandosene dai giudizi altrui Probabilmente la showgirl, ha capito la regola per sopravvivere in questo mondo fatto di apparenze, critiche, realtà social e così via L'importante è fare quello che ci piace e quello che ci fa stare bene, poi ai giudizi altrui, bisognerebbe non dargli troppo peso Tanto si sbaglia sempre, qualunque cosa si faccia Facciamo questo discorso, in quanto Alba Parietti, durante il suo mega party a sorpresa di compleanno, organizzato dai suoi amici, si è goduta appieno la serata In un momento di svago, ha postato sui social un simpatico balletto eseguito dalla conduttrice in costume da banni Se molti l'hanno applaudita, altrettanti l'hanno criticata in maniera dura e pesante Molte volte la gente perde veramente l'occasione di tacere.Il ritorno alle origini della Parietti Alba Parietti ha riportato su social un vecchio scatto a Marcordi Lei da giovane e la didascalia piccante ha fatto impazzire il web La conduttrice ha scritto, correva l'anno 1983,40 anni sulle copertine, eppur si muove Dopo quest'ultima battuta i suoi followers, si sono molto agitati, un po' per la bellezza della Parietti, un po' per quella frase che potrebbe essere interpretata in molteplici modi Siamo curiosi di sapere cosa avete pensato voi appena l'avete letta? Ad ogni modo, la Parietti vi piace più in versione pischella o in versione matura? Come si può vedere sotto il post, le opinioni a tal quesito sono diverse, creando delle vere e proprie fazioni Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video